Matteo, dopo le fatiche con l'Under 21, adesso hai cominciato il ritiro, le tue sensazioni dopo questa amichevole? Le sensazioni sono buone, abbiamo fatto una buona amichevole, siamo riusciti a fare il giro al palla per creare occasioni pericolose, abbiamo fatto il gioco che ci ha chiesto il mister, certo le gambe erano un po' imballate, però siamo riusciti a fare quello che ci ha chiesto il mister. Dall'altro è sembrato comunque un buon verona, già anche con i nuovi innesti, sembrava una squadra che ha già trovato una sua quadratura. Assolutamente, il blocco c'era, poi i nuovi innesti sono di qualità, grandi campioni, perciò a loro è stato facile inserirsi nel nostro gruppo e ci potranno dare una mano importante durante la stagione. Personalmente a te, cosa ha dato in più l'Europeo? La finale, insomma, aveva perso con la Spagna ma comunque un grandissimo europeo. Mi ha dato tante esperienze internazionali, mi ha fatto giocare contro gente che fa la Champions da anni, perciò mi ha dato tante esperienze e mi ha dato anche consapevolezza nei miei mezzi. Parlando dei nuovi arrivati, Bosco Jankovic, un allenamento, l'hai conosciuto, insomma, l'hai visto, cosa ti sembra? L'ho visto molto poco perché ha fatto più che altro palestra, però sappiamo tutti le qualità che ha lui, perciò non abbiamo dubbio che farà bene qua a Verona. Insomma, comunque è aperta una gratificazione stasera a cominciare, insomma, tra gli unici titolari per quanto, insomma, possono essere titolari, comunque, insomma, una bella soddisfazione, dai. Sì, sì, assolutamente, sono molto contento, vediamo come va la stagione. Grazie a te.